Un avvocato divorzista Chiedo che la corte disponga per un assegno divorzile di 50.000 euro 5 a 3, ma è matto Un consulente matrimoniale Mentire è la tomba del matrimonio Si è fatto l'abbonamento al centro massaggi Thai Per la sciatica Porto Due mondi lontani Firmi la separazione oppure ci vediamo in tribunale Ma lei, stronza di suo, ha fatto un master Ho fatto un master, sì E qualcosa in comune E direttamente dall'estate della nostra infanzia Stefano Parisi Il ciccio Dove ne avevi nascosto il tuo amico? Nell'album dei ricordi Questa è una iena Questa non è la ragazzina che ti piaceva quando c'era i 10 anni Comunque mio figlio non ha bisogno di aiuto Meno che mai del tuo La scuola lo prendono per il culo E a te ti massacravano Parti, partivi, Carlo mi vuole cucchiare Chi di voi due, Carlo? Io Ma non sai che se vivo non mi toglie Io ti faccio radiare dall'albo Hai capito? Poli opposti Suona carino come titolo Non si può sapere che cosa vuoi da me Contento adesso? Pensavo meglio Ma dai che si vede lontano un chilometro che sei innamore Non dire quella parola Luca Argentero Sara Felberbaum Stavo pensando che magari il mio due per pranzo potremmo Scordatela Poli opposti Io 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 Grazie a tutti